Oggi sul mio canale godremo di un doppio capitolo, più precisamente il capitolo 299 e il capitolo 300. Ora vi anticipo quello che scopriremo guardando questo video fino alla fine, ma prima vi ricordo che a partire da lunedì 30 settembre, la promessa cambierà canale. Da quella data, la serie andrà in onda su Rete 4 alle ore 19 e 35, e non più su canale 5. Segnatevi l'orario e il nuovo canale per non perdervi neanche un episodio delle avvincenti storie di La Promessa. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Il signor Curro si trova ancora confinato nella sua stanza, le sue condizioni fisiche migliorano, ma la sua anima è tormentata. Dopo il tragico incidente che ha portato alla morte di Feliciano, il marchese Alonso ha deciso di isolarlo completamente, una decisione che, secondo lui, è necessaria per proteggerlo. Ma nonostante l'isolamento forzato, Curro non è mai solo, grazie alla presenza costante di sua sorella Hana. Hana, dolcissima e premurosa, non lo lascia mai. È l'unica persona a cui il marchese ha permesso di rimanere al fianco del fratello. Lei è un raggio di luce in quella cupa prigionia. Ogni giorno entra nella stanza con un sorriso gentile, portando con sé non solo il calore del suo affetto, ma anche la forza di una sorella che ha fatto la promessa di non abbandonarlo mai. Le sue mani delicate curano le ferite di Curro, ma sono le sue parole e la sua presenza a curare il suo spirito. Parla con lui di cose semplici, di ricordi di infanzia, di speranze per il futuro, cercando in ogni modo di tenerlo ancorato alla vita, anche se il mondo sembra essersi ristretto attorno a quelle quattro mura. Ogni volta che Hana è con lui, Curro sente che l'isolamento imposto dal marchese Alonso pesa un po' meno. Lei è l'unica a cui lui può confidare i suoi dubbi, le sue paure, e a chiedersi cosa si nasconda dietro la promessa di Alonso di proteggerlo. Hana, pur dolce e amorevole, condivide la preoccupazione del fratello. Anche lei sente che c'è qualcosa di più dietro le rigide restrizioni del marchese, qualcosa che non possono ancora comprendere. Eppure, ogni volta che Hana sorride, sembra che per Curro ci sia ancora speranza. La sua presenza costante è una promessa silenziosa. Qualunque cosa accada, lei sarà lì, al suo fianco, fino a quando non avranno scoperto la verità che si cela dietro quell'isolamento forzato. Nel frattempo, al di fuori della stanza di Curro, il marchese Don Alonso e il maggiordomo Romulo sono immersi in una frenetica ricerca della verità su quanto accaduto quel fatidico giorno durante la caccia. Sanno che l'incidente in cui Feliciano ha perso la vita non è stato un caso, e qualcuno, nell'ombra, sta cercando di colpire anche l'operaio. Le loro indagini proseguono lentamente, ma a piccoli passi stanno iniziando a ricomporre il puzzle di quella giornata terribile. Ogni indizio li avvicina alla verità, ma anche a un pericolo sempre più grande. Nel frattempo, un altro elemento misterioso scuote la tranquillità della promessa. Doña Cruz ha deciso di invitare il conte di Ayala a restare per un periodo alla tenuta, una decisione che ha sorpreso tutti. Nessuno è rimasto indifferente a quella scelta, ma chi ne è stata maggiormente colpita è Petra. Quando il conte di Ayala le confida, per iscritto, che la sua visita non è stata affatto casuale, Petra si trova improvvisamente di fronte a domande e sospetti che non aveva mai considerato. Nel frattempo, Pelaio e Catalina ricevono un dono inaspettato dal signor Cavendish, che getta ombre oscure sul loro futuro. Una pistola, accompagnata da una lettera misteriosa, arriva a sconvolgere la loro quotidianità. Quel gesto rappresenta chiaramente una minaccia, un segno che le questioni irrisolte di la promessa sono più pericolose di quanto si immaginasse. Dall'altra parte, il conte di Indigo, vedendo il crescente stress della sua fidanzata, le suggerisce di prendersi una pausa e di andare in una spa per qualche giorno, sperando di allontanarla dalle tensioni che sembrano attanagliare la promessa. Ma il vero colpo di scena arriva quando Hana, la dolce e sempre presente sorella di Curro, scopre un segreto di famiglia sconvolgente. Il vero padre di Curro non è chi ha sempre creduto. Questa rivelazione la colpisce come un fulmine, travolgendola completamente. Il suo mondo si frantuma in un istante, lasciandola senza respiro, incapace di sostenere il peso di una verità tanto devastante. I suoi pensieri sono un vortice di confusione e dolore, e l'unica cosa che riesce a fare è fuggire, con il cuore in gola e le lacrime che le annebbiano la vista. Corre disperata, cercando rifugio nella capanna di Ramona, un luogo lontano, nascosto dagli sguardi severi e implacabili del marchese Don Alonso, l'unico posto dove crede di poter nascondere il suo dolore. Questa rivelazione la colpisce come un fulmine, travolgendola completamente. Il suo mondo si frantuma in un istante, lasciandola senza respiro, incapace di sostenere il peso di una verità tanto devastante. Quando il marchese scopre che Hannah ha abbandonato Curro in quel momento di estrema vulnerabilità, capisce che la situazione è più grave di quanto avesse previsto. Decide di agire immediatamente, preoccupato non solo per la salute fisica di Curro, ma anche per i segreti che ora rischiano di venire alla luce. Tuttavia, l'azione del marchese si intreccia con i piani di Maria Fernandez, che sta cercando disperatamente di sfuggire alla promessa per andare a trovare la sua amica. Sarà proprio Manuel a venire in suo aiuto, facilitando la sua fuga e complicando ancora di più le dinamiche di una tenuta che, giorno dopo giorno, svela nuovi misteri. La cameriera, con il volto segnato da una profonda inquietudine, continua a chiedersi se portare avanti il matrimonio con Salvador sia davvero la scelta giusta. I dubbi la consumano ogni giorno di più, mentre cerca di bilanciare i suoi sentimenti contrastanti e le aspettative che tutti sembrano avere su di lei. Il suo cuore è diviso. Da un lato, l'amore per Salvador. Dall'altro, la paura che quella promessa solenne possa non essere ciò di cui ha realmente bisogno. Ogni suo gesto, ogni sguardo, rivela l'incertezza che la tormenta, rendendo ogni decisione un peso insostenibile. Ma non è la sola a vivere un momento di indecisione. Anche Vera e Lope, immersi nelle loro vite parallele, si ritrovano a fare i conti con dubbi simili. Le loro conversazioni sono piene di domande, riflessioni su cosa significhi davvero il futuro che stanno costruendo insieme. I più e i meno delle loro relazioni si alternano come in un delicato gioco di equilibrio e il loro amore sembra vacillare sotto il peso delle incertezze. Tutto potrebbe però cambiare all'improvviso. Un giorno, Maria Hernández, sempre attenta e curiosa, si aggira nel magazzino del palazzo, tra le casse impolverate e gli oggetti dimenticati. I suoi occhi si posano su qualcosa di insolito, qualcosa che non dovrebbe essere lì. Il cuore le batte forte mentre si avvicina per esaminare l'oggetto più da vicino. È un ritrovamento che lascia presagire misteri ancora più profondi e pericoli nascosti nell'ombra. Potrebbe essere la chiave per svelare segreti che nessuno osa nemmeno immaginare? Nel frattempo, il signor Manuel è completamente immerso nei preparativi per la gran finale della Coppa Aaron Stockman. Il suo entusiasmo è palpabile. Ogni dettaglio è curato con precisione maniacale. Il rombo dei motori dell'aereo che lo attende è una promessa di avventura e competizione. Manuel è pronto a prendere il volo, ma anche qui le sorprese non mancheranno. La sua partenza segnerà l'inizio di qualcosa di ancora più grande. Questo è solo un piccolo assaggio di ciò che vedremo. Intrighi, emozioni e scoperte che potrebbero cambiare il destino di tutti alla promessa. E vuoi ricevere nuovi video della serie? Scrivi «Voglio il seguito» nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie! Comunicazione di servizio Vi ricordiamo che a partire da lunedì 30 settembre La Promessa cambierà canale. Da quella data, la serie andrà in onda su Rete 4 alle ore 19 e 35 e non più su Canale 5. Segnatevi l'orario e il nuovo canale per non perdervi neanche un episodio delle avvincenti storie di La Promessa. Non mancate!